Uno dei dati che sicuramente è quello più interessante, anche quello più rilevante, è che il 21% delle aziende che ha risposto alla nostra survey ha dichiarato di spendere più di 50.000 euro in influencer marketing. Possiamo quindi rispondere alla nostra domanda se l'influencer marketing è una bolla passeggera. La risposta è assolutamente no perché il trend continua ad essere in crescita. E finalmente abbiamo anche un'idea di quanto i brand spendono e investono nell'influencer marketing, che è un dato che ci fa capire che ormai è diventato un giro da milioni di euro. Il 62% dei brand, secondo la nostra survey, dichiara di realizzare attività continuative in influencer marketing, contro invece attività one shot. Questo dato ci fa capire come si realizzano sempre di più attività continuative e meno attività spot, come se il mercato ormai fosse pronto per avere una visione più di lungo periodo e più strategica per quanto riguarda le attivazioni di influencer marketing. I servizi meno richiesti alle realtà specializzate in influencer marketing sono per il 20% e il 16% la strategia e le idee creative. Questo è molto interessante se si pensa che i primi criteri di insoddisfazione per le persone che non hanno realizzato campagne in influencer marketing o che si ritengono poco soddisfatti da quelle che hanno realizzato nel 2018 sono appunto una carenza di strategia e delle idee creative distintive. Non è un caso che a livello formativo dobbiamo concentrarci sempre di più su questi due aspetti perché le risorse che lavorino all'influencer marketing sia all'interno delle agenzie che all'interno dei brand siano pronte a rispondere alle esigenze strategiche e alle esigenze creative che sono la base per delle campagne di influencer marketing efficaci. Analizziamo spesso fenomeni passeggeri all'interno del mondo del marketing e della comunicazione e poi qualche volta assistiamo alla vera e propria genesi e nascita di nuove discipline. Questo direi che è sicuramente il caso dell'influencer marketing. È una tematica che abbiamo affrontato come precursori lanciando un corso che forma in questo senso ma non era abbastanza. Abbiamo sempre bisogno di essere informati sui trend di mercato, tenere il polso di quella che è la situazione soprattutto in Italia. E allora da lì abbiamo deciso di fondare questo osservatorio di influencer marketing assieme ai nostri partner al fine veramente di analizzare e dare una fotografia di quella che è la situazione oggi in Italia. L'idea dell'osservatorio nasce da una vera esigenza, quella di definire le dinamiche che governano questo mercato legato al fenomeno dell'influencer marketing dal punto di vista di tra diversi stakeholders, agenzie, aziende e influencer. L'obiettivo è quello di definire una vera e propria mappa che ci aiuti a comprendere quali siano le competenze, le possibilità, le opportunità e i futuri scenari di questo mercato in continua evoluzione. Abbiamo effettuato una vera e propria chiamata su più di 300 aziende italiane e multinazionali che hanno risposto e grazie ad essi abbiamo completato un report direi decisamente interessante ed esaustivo. I learning verranno poi processati per diventare parte integrante di quella che è la formazione per i nostri studenti. Grazie. 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 Grazie.